...sia gli steward dello Stato, incapaci di fermare le fonte di patrione, si hanno trasformato in zona di guerra anche l'area circostante allo Stato, riportando il tempo indietro di vent'anni. Così le due squadre si erano dati a scusamento perché quella tra WS e WS e WS è una rivalità antica nata a fin giro nel 1926, quando poterai che i strumenti di WS aderirono a uno sciopero generale, mentre i cuorguagli unici sono fatti a lavorare con uno spunto tra i due gruppi e si trasferirono poi sui campi da calcio, trasformando i campi dell'estero londinente nella partita applicata del campo anglese. La federazione inglesa ha già avuto un pietro del pronto a mandire a vita dagli stagli rilassostati e si fa lasciare subito la pausa e evitare gli rischi di torno di nuova a colpia. Torneremo più avanti allo calcio con le ultimissime di Nacan, adesso spazio all'attivismo, da l'inizio che ha comparto questa mattina davanti alla procura antidote per le possibilità rispondate durante un giro. La città mi ha chiesto ed ho penuto una vendita di un mese, tra le veri le recente. Danilo Di Luca è in bicicletta in ammazzatore, per rinfrescarsi la memoria basta dare un occhiata a qualche tappa di montagna dell'ultimo giro di gare, quello che ora rischia di costarmi una carriera. Oggi a piedi comincia la battaglia più difficile della sua vita davanti alla procura antidoteca che di vede la sua litica, rischia fino a 4 anni, nel 30-30. Per il laboratorio francese, Rishanemala, Grazie.